Io vorrei davvero sapere perché la sinistra ogni volta si deve contraddire con i propri ragionamenti. Quando governava la destra e c'era la questione di discutere sull'immunità parlamentare di Berlusconi o ultimamente quando c'è stata la questione che ha coinvolto il ministro Salvini, allora giustizialismo assoluto, bisogna condannarli, devono rinunciare all'immunità parlamentare, sono dei criminali, sono degli assassini. Ieri stavano cominciando con la Frassinetti, ho visto sulla 7 quella faccia della Gruber sempre assatanata contro i suoi avversari, sempre con questo sentimento di odio continuo nei confronti degli avversari politici, ho visto Scanzi, anche lui con la bava alla bocca. Tutti quanti se la stavano prendendo con la Frassinetti per un piccolo post che ha scritto su Facebook che riguardava una partita del Milan, ha citato, dice un autore con simpatie fasciste, la Frassinetti è fascista, veramente ragazzi hanno stufato, ce l'hanno sfracassate, questa sinistra ce le ha sfracassate e soprattutto perché sono degli incoerenti, parlavano sempre di abuso dell'immunità parlamentare, e la destra che abusa dell'immunità parlamentare, che poi neanche è vero perché sia Berlusconi che Salvini sono andati a processo, Berlusconi è stato assolto, Salvini spero che venga assolto presto, ma anche Salvini ha deciso di rinunciare all'immunità parlamentare e si farà processare in Sicilia. E invece quando tocca a loro, come adesso sulla questione della Salis, loro cominciano subito ad appellarsi all'immunità, la Salis non deve essere rimandata in Ungheria, non deve essere processata, cioè l'Ungheria è uno Stato sovrano, l'Ungheria non ha il diritto di processare la Salis per appunto dei crimini che sono stati commessi sul territorio ungherese, la Salis non è stata condannata, per carità noi le diamo il beneficio dell'innocenza fino a prova contraria, però se la Salis è innocente che si facesse processare, che andasse in Ungheria a farsi processare, non è giusto che adesso che si parla di una di sinistra, è anche molto molto comunista, non solo di sinistra ma proprio comunista, 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 la Salis invochi l'immunità parlamentare proprio quando loro erano invece quelli giustizialisti nei confronti dei politici di destra. La Salis deve essere riconsegnata all'Ungheria, l'Ungheria la deve processare, poi per carità se dal processo deriva la sua irresponsabilità, se viene assolta nel processo, allora la Salis può tornare tranquillamente tra i banchi del Parlamento europeo visto che è stata eletta dai cittadini. Però se la Salis dovesse risultare colpevole dovrebbe anche dimettersi a punto da parlamentare europea.